Martedì, lunedì. Salute Laura, bevi? E' l'ora. La vostra. E' l'ora. Raga, stavo dicendo che Genki è l'unico che va via quattro giorni a sciare ma non vede l'ora di ritornare al lavoro un mercoledì. Fa riposare un po'. Fa riposare. Ma i poverici cominciamo a rudarlo. Fa riposare un po' 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 Oh si 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 vai ma no 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 i ah no il palo è ubriaco il palo viene il caldo di pappé no, vorremmo arrivare non l'orecchio vieni oh 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 tutto posto si dall'orecchio faccio un lato eh ok, mica di controllo vai no oh Stefano, 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 Stefano! Bye! Dai, ma se non dovete metterla! CONCORRENCIA! Che bello adesso! Ma che me l'avamo tagliato? Dai, subisce! Subisce! Qua era l'appdance? No, fa freddo! Non c'è la pizza! No, non c'è la pizza! Non c'è la pizza! Oh, ragazzi, siamo qui! C'è la pizza! Oh, ragazzi! Grazie. Grazie a tutti. 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 Barbra Streisand... Grazie a tutti. 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 partecipanti perché dopo anni così gli mettiamo sempre a dura prova e loro si difendono sempre bene. Oggi le condizioni erano anche molto particolari, molto pure perché tanta neve così non mi ricordo nemmeno io quant'è che l'ho vista l'ultima volta. Io non l'ho mai visto. Ma mandalo via, mandalo via! Scusate, mi do una coltellata a uno, però volevo dare un riconoscimento ai due che sono scappati e subito ne ho tagliato la farmacia. Uno si è salvato in extremis. ora uno a Genchi e l'altro Daniela che hanno subito alzato a bandiera bianca e gli facciamo un piatto speciale. Prego ricaricatevi le batterie. Senza avere niente, dovete ricaricarlo, lo mettete dove volete. voi volete caricate le batterie per domani la presa è davvero caricatevi vai foto mentre invece devo dire che Bruno si è riscattato bravo 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 fai da bere adesso lo vede a mangiare il merpreme lo fai da bere a tutti Fabio e te la pizza che hai mangiato prima facciamo un applauso e un applauso al nostro pulmista ex pulmista pulmista dell'andata che non sta a destra devo fare l'affiancata 720 telefonate pulmini anche per il nostro proseguo per i prossimi giorni il nostro organizzatore quindi anche per essere qua ripeto prima dovevamo essere 22 purtroppo non siamo dei mali perché si sono malati un po' tutti così bravo Marco bravo Marco per letto Jackie no ma noi non lo stiamo a stemino non beviamo solo acqua facciamo un teroldico 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 jackie sta passer ma no come cortina perché picchi fai il teroldico jackie vai jackie siamo un teroldico si bravo perché oltre il teroldico giochiamo in casa e in maniera economica no vieni anche a uno che era il problema lunedore eh jackie no non parlo più allora ieri si è disputato un evento per uno di noi e ha raccolto un attimo risultato secondo classificato nella sua scuola e quarto in tutta la scuola di Goni è andato come l'italiano di oggi Stefano Gross ha preso anche lui la medaglia di legno per non smentirsi però va bene la scuola unitissimo domani ti spianchiamo come fate gli agio voi bellissimo perché lo tiravate sempre in percara perché lo tiravate sempre in percara oggi perché lo tiravate sempre in percara oggi